Il primo dei video di presentazione del mio nuovo corso di apnea online lo vorrei iniziare da qui, da Y40, la pescina più profonda del mondo. L'apnea è una disciplina molto molto particolare, affascinante, molto mentale. Vi permetterà di scoprire il vostro corpo come non è mai successo prima. Con i video di approfondimento vedremo come preparare in termini di respirazione e rilassamento una apnea dinamica, a preparare meglio una statica, a respirare meglio, a rilassarvi meglio in acqua. Vedremo come individuare ogni errore e quali sono le soluzioni per eliminare ogni errore della nostra tecnica. Tutto questo nei video che seguiranno. Grazie a tutti.